Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati Un attimo Già cominciamo Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro amico l'IP2L200 Siamo qui oggi ancora su Factorio Ragazzi questa qua sarà una serie intermedia Dove principalmente Farò, vediamo Perché non so quanto verrà lunga Sono tre livelli Perché ho preso solo la La, la, la La demo Poi vedrò se Più avanti magari riuscirò a prendermi Un'alfa Anche l'alfa da Tasto Da 10 euro Ok finalmente Perché c'è un'alfa che si può scaricare Vedo se c'è quella magari Che non costa tanto Vediamo se riesco a prenderla Che così Continuiamo anche su Factorio Oggi ci sarà un video Se lo farò Non farò molto Video molto lunghi Almeno darò la possibilità Che questa serie Continuerà un po' di più Farò massimo video Da 7 minuti Su questa serie qua Sì lo so Vorrei farli più lunghi Però se li faccio più lunghi Intanto il gioco mi va da solo Io non sto prima andando a tastiera A tastiera mi va da solo Allora Gentilmente Se Tu fai quello che ti dico Lo facciamo In modo giusto Ok Perfetto Però lì manca Electricity Tu qua fai così Ok Dicevo Farò video di 7 minuti Almeno darò un po' più di spazio Poi Perché È buggata così Perché vedo un po' tutto buggato Allora Evviva si muove Prima di cominciare Divertimi Devo creare Ok Ok Divertimi Sivella combustione 4 su 10 Va bene Ok capito Devo costruire un po' Allora Devo andare a prendere La pietra Per prendere Ok Ve l'ho detto Ve l'ho detto che era un po' Che si comportava un po' Stile Minecraft Che dovevamo andare spesso A prendere Ad esempio Ad esempio Quando prenderò Più avanti Un'alfa Potrò fare video Un po' più lunghi Però Ci saranno solo Tre livelli Qua per un po' Si concluderà Per poi Riaprirsi In seguito Con Vedremo Magari ci metteremo Cose un po' più nuove Tipo Non so Nelle alfa Ci saranno più livello Perché Ci saranno un po' più di cose Da far vedere E adesso Niente Adesso Come Sto prendendo Della pietra Perché devo fare Un paio di fornaci Devo farne cinque Devo farne ancora Gioco Cioè Tastiera Mouse Quello che sei Vedi di andare bene Tanto che c'era un casino Di pietra Questa parte qua Un po' di un oggetto Ve la concedo Ok Le fornaci Le ho fatte Andiamo a piazzarle Quattro Cinque No Le metto Mettiamone due qua Allora Vi spiego un po' Questa qua è una cava di rame Guarda C'è il carbone La pietra Il ferro Praticamente Funziona più o meno Tutto come Minecraft Diciamo Che per Bisogna fare un po' Tutto come Minecraft E quindi Ci sarà Parecchie cose da fare Sbrigare Durante tutto il corso Del gioco Perché Le solù Sono veramente lunghe Le cose da fare In questo gioco E Tanto Sì Ok Aspetta Mi metto un po' Di musica Almeno Cerchiamo di rendere Un po' La trossera Un po' più vivace Spero che si senta Questo Perché Intanto Che il coso È un po' Moscio Metto un po' Di musica Di musica Grazie per la visione 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 Grazie per la visione